Grazie Presidente, brevemente questo emendamento consta di tre parti, due vanno a meglio specificare il richiamo al termine amministrazione capitolina che nel caso dell'articolo 4,2 si riferisce agli organi politici di governo di Roma Capitale, mentre nell'articolo 9,1 sono gli uffici, cioè i dipartimenti e le strutture territorialmente competenti. Poi c'è un'ulteriore specifica, l'articolo 7,2 che vuole rendere meglio il senso per questa amministrazione in merito alle proposte spontanee di sponsorizzazione da parte dei soggetti privati. Il termine utilizzato nella delibera originale era più conveniente e noi vogliamo sostituirlo con i termini economicamente più vantaggiosa come offerta che riteniamo che sia per l'amministrazione la scelta migliore. Grazie. Grazie.